Non esistono soluzioni alternative, dirigenti acqua e idrotecne sono state dichiarate fallite. A deciderlo è stata la quarta sezione civile fallimentare del Tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Giovanni D'Antoni con provvedimento del 4 giugno scorso. Contestualmente sono stati nominati il giudice delegato Vittoria Rubino e curatori fallimentari Giovanni Battista Coa, Filippo Lofranco e Vittorio Viviani. Questi ultimi si occuperanno della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare. La soluzione si è sbloccata anche se in negativo dopo che il commissario giudiziale Aurelio Mirone, che era stato nominato nei mesi scorsi dopo la dichiarazione dello Stato di insolvenza degli ex gestori, ha di fatto dichiarato che non vi fossero soluzioni alternative al fallimento. Aurelio Mirone infatti ha stabilito l'impossibilità di conseguire il riequilibrio economico dell'impresa tramite un programma di ristrutturazione. E l'esclusa percorribilità di un programma di gestione dei complessi aziendali. La circostanza è una normale conseguenza della risoluzione della convenzione di gestione tra ATI e Girgenti Acque, quest'ultima nel frattempo gestita dai commissari nominati dalla Prefettura. L'ATI, con una nota del dicembre 2020, ha comunicato di non voler procedere al trasferimento del ramo d'azienda dell'ex gestore e che dunque non prevede di ricorrere ad alcuna forma di gestione del rapporto, ma ad un nuovo affidamento che per l'indisponibilità dell'unico soggetto interlocutore rende impossibile qualsiasi ipotesi di riequilibrio economico dell'impresa. Il Tribunale ad ogni modo ha stabilito che nell'emore del completamento delle procedure fallimentari sono oltre 28 milioni di euro i debiti da curare, la gestione rimarrà nelle mani della guida commissariale prefettizia fino alla costituzione della consortile, quando e se verrà costituita.